Giornata di silenzio elettorale. Tra meno di 24 ore i cittadini di 42 comuni salernitani saranno chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Solo in due casi, Salerno e Battipaglia, sarà possibile arrivare al ballottaggio, programmato per il 19 giugno. Negli altri 40 enti la scelta sarà secca e domani sera ci sarà già il nome dell'eletto. Tanti gli sfidanti in campo nei due comuni maggiori. A Salerno ci sono 10 candidate alla carica di sindaco, con 23 liste collegate e 695 candidati a consigliere comunale. Saranno eletti solo 32. Il centro-sinistra si presenta compatto intorno al sindaco facente funzioni Vincenzo Napoli. A suo sostegno anche il centro-moderati. Il centro-destra si presenta frammentato con ai nastri di partenza 5 candidati. Roberto Celano, Gianluigi Cassandra, Antonio Iannone, Raffaele Adinolfi e Antonio Cammarota. Due i civici, Dante Santoro e Giuseppe Amodio. Infine a sinistra Gianpaolo Lambiase e a destra Marco Falvella. I candidati non possono più autopubblicizzarsi e a questo punto devono solo attendere il verdetto inappellabile delle urne. In questa fase di teorico silenzio, sui social e sui marciapiedi le strette di mano e gli ammiccamenti continuano, ritornano come in un flashback tutte le immagini degli ultimi 30 giorni durante i quali gli aspiranti sindaco e i pretendenti a consigliere hanno giocato tutte le loro carte per convincere i cittadini. Tutto è compiuto dunque e domani alle 7 si apriranno i 152 seggi dove i salernitani diranno la loro con il voto. 8 i candidati sindaco invece a Battipaglia, l'altra città della provincia superiore ai 15.000 abitanti e che potrebbe arrivare al ballottaggio del 19 giugno. I battipagliesi dovranno scegliere tra Enrico Lanaro, Pietro Ciotti, Cecilia Francese, Ugo Tozzi, Gerardo Motta, Vincenzo Inverso, Riccardo Maria Cerosimo e Guglielmo Marchetta. Gli otto candidati sindaco hanno inviato una lettera a Rosi Bindi per dire che la città non è mafiosa. Grazie a tutti.